Quella notte, i primi ad accorre nella caparna furono i pastori invitati dagli assi del dorale genuto. Anche noi accorriamo, in piena della notte santa, al ritocco del campane, convicinata alla vera leggenda del campane di Natale. I pastori s'atturranno a pretende per incontrare il mio nato re, un piccolo comitante, un piccolo congelo, sedeva sudato nella strada maestra. E, sentendo la luce di madri, vengono i pastori di ogni uomo a Gesù, guardando. Nessuno aveva il tempo per incontrare. Quando la porta è passata e le strade tornarono soluziose, il primo giro di mananza, il piede è il tocco di una campagna riscabile. Pensò, forse fuori dalla nuca, si trova con la prima strada di venaggio Gesù, compito e seguì la campagna. Fino alla mia strada, ho venuto a portare il gruppo cieco, fino alla prancitoria, dove c'erceva il mio nato di Gesù. Oracolare, mi racconterai in gusto una poesia, arte di Angel Angelus Sieger, chiedendo di queste inglese quelli che parla la sospensione della sua poesia, e il suo ruolo dei campani che avrete sentito il giorno di cantare, stenduto nel settecento cantare. Grazie. 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 Grazie.